ma che fai eh Bottoin, spetta detto Mauro Colona che c'ho una trombetta da del debito ma qua trombetta mi sono di io fare un richiamo fai io rei e tu che figlio che trombetta del Gito, forza di tutto, dai ma un richiamo, in che senso vuoi un richiamo? ecco perché mi credo che lei stiava a fare il terzo richiamo del vaccino ma siccome c'è poca gente, ora mi vuoi provare a incrementare la gente, intanto provo con gli osèi e tu da dopo poi si vedrà, intanto siamo con gli osèi, poi si vedrà ma come vaccino, come sta eh, ha fatto il vaccino eh, lì a posto fate due dosi e ogni mattina bevo il latte, ma ci non basta e no, e no, lei deve, allora, lei deve essere inoculato eh sì, inoculato, inoculato oh, ma prima io volevo il tamponato, adesso io volevo inoculato, ma cosa si vuole inoculato? ma cosa si vuole inoculato? ma cosa si vuole inoculato? ma no, ma c'è capito? no, inoculato, no, inoculato, eh, se non fa, se non si fa inoculato, non può andare neanche al cinema, capito? eh, a proposito di cinema, sono andato, veda che altro giorno, ombri rosse, ombri rosse, pensa che a metà del film, dopo il primo tempo, ero già imbriaco, mi ero a portare il bottiglione da casa